Proviamo un po' di dentro Quelli che credo Non lo regge? Tu lo regge? E' però? e qui c'è il 1.756, ai 50 metri di livello. Sì, questo qua come si chiama? Ah, la mancola. Così la manda, l'auto la mandetta. Eh, se la tiene. La mandetta è l'auto. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Stai, stai polar- addioca. Eh, piante no a te può fermare. Ma è, esatto a simpoli, ma di metterola, è cova, Non c'era quella volta che hanno fatto la base a lei, ma il casetto è un luglio quelli cittadini. No, l'ho fatta con sangue, che è mica stramato. Quattro e mezza, c'è un pantalone corti. Mi serve di aver fatto il piano con gli aspari. Poi abbiamo attaccato tutto, che volete in su. Messo i pantaloni desti. Mi serve di aver fatto il piano con i pantaloni desti. Andiamo dove volete, ragazzi. Pensa a quelli che sono là giù un po'. E' un po' di sorprezione bene a parte. Saldano le nebbie. Sì... Però mi ha arrivato qui via. Sì... Sì, è una cosa più importante. Se non mi ha a perdere il tasto, mi ha un tasto proprio bambino. Ma per fare l'attenzione qui, non mi ha sopra le pezze. si passa a scena della fiatura con il cordino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.